Siamo in collegamento nella puntata di oggi interamente dedicata alla bellezza femminile, a come ha attraversato le epoche cinematografiche, insomma ve l'avevamo già annunciato, una protagonista sarebbe indubbiamente stata Anna Magnani che ha simboleggiato un periodo storico fondamentale per il nostro paese e per il cinema del nostro paese. Per anni appunto la sua faccia, il suo volto ha rappresentato un certo tipo di Italia, un certo tipo di racconto cinematografico sull'Italia e per parlare di questo racconto cinematografico ma anche della parabola di Anna Magnani come attrice e come donna abbiamo uno scrittore che insomma ha dedicato molto tempo negli ultimi anni proprio a scavare, ad indagare su questo personaggio così importante nella storia del nostro cinema. Il risultato, il prodotto di questo lavoro è un libro che consiglio a tutti coloro che sono appassionati di cinema e della storia ovviamente in particolare del nostro cinema che si intitola Anna Magnani, biografia di una donna e abbiamo il piacere di avere ai microfoni di Radio Cusano Campus qui a Buio in Sala il suo autore Matteo Persica al quale do il benvenuto qui a Buio in Sala. Buonasera Persica. Buonasera a voi, grazie. Buonasera a voi. Buonasera a voi. sul palcoscenico appunto di un teatro, sul set appunto di un film e questo si evince dai racconti che ovviamente mi hanno donato le persone che l'hanno conosciuta realmente, appunto mi dicevano che quando lei entrava in una sala piena di gente, crevita di persone, ci si accorgeva subito della sua presenza perché era veramente magnetica, quindi la definizione magnani-magnetica sarebbe quella più giusta. E anche in teatro, faccio un esempio, quando lei andò in Russia con la lupa diretta da Franco Zeffirelli, lei riuscì ad incatenare letteralmente il pubblico sulle poltroncine che non capiva assolutamente una parola dello spettacolo perché era in italiano, recitato in italiano, eppure rimaneva comunque sia affascinato dallo sguardo, dalle movenze della magnani, che forse non era una bellezza canonica o comunque sia quella che noi possiamo considerare nella norma una bellezza, però era sicuramente una donna, mi ripeto, di grande fascino. Assolutamente sì e questo emerge anche nelle esperienze cinematografiche che la magnani appunto ha avuto all'estero, insomma noi in Italia abbiamo avuto per anni forse un pregiudizio da parte del pubblico italiano legato ai ruoli che la magnani interpretava, una donna del popolo per il popolo che incarnava appunto un certo tipo di cinematografia che voleva raccontare la ripresa dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale, il boom economico, però nel suo libro Persica noi scopriamo che la magnani comunque era molto diversa, la magnani come donna, da quel tipo di interpretazione e di personaggio incarnato sul grande schermo. Io capisco che è più facile parlare di una magnani volgare, isterica, popolarisca, in effetti non è stata così come donna, nel suo privato non era assolutamente così, parlava un italiano perfetto e questo l'ho smentito subito attraverso appunto la biografia, andando a riportare la critica, che ha parlato appunto sul messaggero in occasione del primo saggio di recitazione della magnani, la reggia scolata di recitazione Eleonora Dussel, lei era ovviamente un'illustre sconosciuta perché non la conosceva nessuna, era una ragazzina, il critico del messaggero la notò proprio per la sua edizione, quindi già questo va a smentire le dicerie sulla magnani che parlava in romanaccio e romanesco. Era una donna colta che sapeva anche analizzare ciò che la circondava, quindi la società, era forse una definizione azzardata, però un pasolino in gonnella mi piace come definizione. Era una donna introspettiva, non era una donna sciatta, era una donna colta che leggeva molto, che si informava molto, che restava chiusa mesi in casa per correggere i copioni che le inviavano e forse anche per questo è stata messa da parte un pochino dal mondo del cinema, quando il mondo del cinema italiano è diventata un'industria, quando non c'era più tempo da perdere appunto appresso ad attori o attrici come la magnani che ti facevano proprio perdere del tempo mesi prima delle riprese per definire appunto una scena, una frase, una virgola, una parola. E la magnani, devo dire questo a malincuore, non era amatissima come attrice dal pubblico neanche allora. I film della magnani sono stati tutti degli insuccessi incredibili al botteghino, infatti veniva definita un'attrice che non faceva cassetta e questo ci dovrebbe fare un pochino riflettere anche oggi quando abbiamo dei giudizi affrettati. Quindi il pubblico l'amava in quanto appunto rappresentante del popolo, la magnani ha fatto anche altro, perché non dobbiamo soltanto ricordare l'onorevole Angelina, Roma Città Aperta, Mamma Roma, la magnani ha fatto anche altre cose tipo La Voce Umana, La Carrotta d'Oro e tanto altro. Però è così, si ricorda come simbolo del popolo, ma il popolo non andava a vedere i suoi film. Quindi forse è stata anche un pochino colpa del pubblico se la magnani è stata un po' dimenticata, neanche messa da parte negli ultimi anni. Negli ultimi dieci anni della sua carriera non ha più lavorato praticamente. Dopo Mamma Roma, perché anche Mamma Roma non è stato un grande successo al botteghino, non ha più avuto la possibilità di interpretare un ruolo importante. Quindi insomma, si dovrebbe far riflettere questa cosa. Assolutamente, e poi questo alimentò un circolo vizioso intorno alla donna, Anna Magnani, anche un po' di pregiudizio si cominciò a criticare anche il suo carattere, magari senza conoscerlo. Il suo essere introverso veniva scambiato per essere un atteggiamento quasi snobbistico, verrebbe da pensare. Dalle pagine del suo libro, Persica, Anna Magnani, Biografia di una donna, emerge un quadro decisamente differente da parte di chi l'ha conosciuta bene. Ma guardi, purtroppo della Magnani a oggi è rimasto soltanto l'eco della Magnani, ma un eco errato, ossia appunto la Magnani volgare della parolaccia che ti mandava a quel paese ogni cinque secondi. È rimasta la guerra dei vulcani che è stata più che altro una montatura dei giornali. Non c'è stata una vera e propria guerra dei vulcani. Anche appunto il discorso del rapporto con Rossellini è rimasto quello. Questo era un peccato, per questo ho deciso di ridare voce in qualche modo alla Magnani, perché in questo libro non c'è l'autore che si rappresenta, ma c'è l'autore che cerca di rappresentare qualcosa, che secondo me è molto più importante. Però ecco, ovviamente ho impiegato otto anni della mia vita per far questo, non tutti hanno né la voglia né la possibilità di farlo, perché può essere anche vista come una perdita di tempo. Io personalmente non la vedo come una perdita di tempo. Era giusto ridar voce alla Magnani e non lasciarla appunto come appunto la Magnani volgare, della parolaccia, degli spaghetti in testa a Rossellini, eccetera. No, decisamente. La guerra dei vulcani a cui si faceva riferimento fu insomma il grande scontro, per così dire, che ha alimentato 60 anni di polemiche poi intorno a tutto questo, anche insomma di discussioni un po' superficiali, un po' limitate al gossip veramente, insomma per quanto riguarda il triangolo tra la Bergman... La Bergman, Rossellini e la Magnani. Esatto. Però mi scusi se l'interrompo, ecco, giusto per far capire ancora meglio quello che sta dicendo. C'è una bellissima lettera di Paolo Stoppa, che non era mai stata pubblicata, ed è pubblicata nel libro. Lui non partecipò ai funerali della Magnani, perché si erano promessi reciprocamente di non partecipare l'uno al funerale dell'altro. Proprio perché non amavano questi funerali dove andavano i colleghi, che volevano rubare in qualche modo la scena al defunto. Lo stesso Stoppa scrisse questa lettera, apparsa poi pubblicata su un quotidiano dell'epoca, scrisse proprio che alcuni suoi colleghi andarono al funerale di Anna Magnani per rubare la scena al feretro, quindi insomma è accaduto anche al funerale di Anna Magnani. Lo stesso Stoppa scrisse che gli stessi appunto colleghi che erano andati ai funerali, che si erano professati grandi amici quasi intimi della Magnani, erano stati proprio loro a rendere la Magnani un monumento disoccupato. Quindi pensare alla Magnani un monumento disoccupato ci fa capire anche la sofferenza che deve aver provato questa donna, anche a livello professionale, di sentirsi comunque sia messa da parte dal suo mondo, dai suoi colleghi. Lei non amava neanche tanto far parte di quel mondo, ogni volta che finiva di girare un film o di portare in scena uno spettacolo teatrale, lei tornava a essere se stessa, tornava a essere donna. In otto anni ho capito che forse la donna da Magnani è stata molto più interessante dell'attrice che tutti quanti noi conosciamo, perché se io ho questa idea si può essere anche un grande attore, un grande artista, però nella vita privata si può essere anche un uomo, una donna mediocre. Invece la Magnani è stata più grande come donna rispetto alla grandissima attrice che è stata. Prima si è detto un libro per chi ama il cinema, io direi sì, un libro per chi ama il cinema, ma anche per chi ama le storie vere e anche per chi cerca alcuni valori, alcuni insegnamenti che forse oggi non ci vengono più proposti. Per esempio la Magnani mi ha colpito tantissimo perché non è mai scesa a compromessi, perché ha preferito perdere nella vita piuttosto che cambiare, è sempre rimasta se stessa. Quindi mi ha insegnato che nella vita appunto la cosa importante è restare se stessa e che bisogna anche essere pronti alla sconfitta, perché la vera vittoria è quando si è pronta alla sconfitta e ci si rialza. La Magnani l'ha sempre fatta. Questo è il quadro che emerge nel libro di Matteo Persica, abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni qui a Buienzala, Anna Magnani, Biografia di una donna, è il quadro cioè di una donna appassionata e che riversava questa sua passione proprio nella professione di attrice. Insomma possiamo soltanto immaginare, ovviamente poi leggendolo poi sul libro, quello che può aver provato nel momento in cui il cinema italiano cambiava e non le offriva più lo spazio che magari invece aveva avuto prima. E quindi io a Matteo Persica chiedo proprio questo, cioè che quadro emerge dell'evoluzione, se così si può chiamare, del cinema italiano, visto con gli occhi dell'attrice Anna Magnani? Che tipo di quadro esce fuori? Perché non sembra un quadro particolarmente lusinghiero, insomma. Ma se lei ha iniziato la sua carriera appunto con la compagnia Nicodemi dopo aver frequentato due anni di scuola di recitazione, avendo la possibilità di girare appunto con questa compagnia teatrale tutto il mondo perché arrivarono addirittura in Sud America e la sua carriera teatrale forse è anche più importante della sua carriera cinematografica, non tutti la conoscono ed è stato anche difficile ricostruirla dall'inizio alla fine. Alla fine della sua carriera non riusciva più neanche a fare degli spettacoli teatrali, ossia non investivano neanche più su uno spettacolo con Anna Magnani protagonista a teatro. Se inizialmente appunto aveva più possibilità di lavorare nel cinema, alla fine non riusciva più a realizzare i progetti che aveva in mente. Però ecco, secondo me la frase che Anna Magnani ha avuto il coraggio di dire verso la fine appunto della sua vita forse spiega tutto. Lei è stata l'unica attrice, attore al mondo, credo, potrei essere smentita ma credo di no, che ha denunciato la mafia nel mondo del cinema. E questa è una cosa che non ha mai scritto nessuno, è stata censurata da tutti. Ossia lei disse ci sono dei produttori, c'è questa mafia del cinema e tutti questi signori della mafia del cinema credono che tutti si debbano inchinare davanti a loro. Ma la Magnani non si inchina davanti a nessuno. Io credo che sia stata... Ecco, forse è più importante questa frase di tutti i film che ha interpretato la Magnani. È una donna veramente coraggiosa. Ecco, la scena di Roma città aperta, lei che corre dietro al camion dei nazisti che portano via il suo compagno Francesco, lì appunto in quel film la Magnani interpreta un personaggio coraggioso. Ma nella vita era ancora più coraggiosa di quel personaggio. Ossia nella vita l'avrebbe fatto lo stesso. Si buttava, seppure continuamente aveva paura. Era una donna anche insicura, possiamo dire. Però riusciva a combattere questa sua insicurezza proprio perché non riusciva... Alla fine era quasi portata istintivamente al coraggio. C'era quasi una forma di inconscienza quasi, però era retta da valori, insomma da certi principi. Era un certo tipo di zi, si era molto legata a dei valori, appunto come abbiamo detto prima, il fatto di non scendere a compromessi, la lealtà. Lei per esempio credeva molto di più nell'amicizia e nell'amore. Era una donna con dei valori saldi. Sicuramente andrebbe fatta a conoscere ai giovani d'oggi. Parlo io in prima persona che ho 34 anni. Ho imparato molto in questi 8 anni dalla Magnani. Quindi oltre ad aver scritto questo libro, che è stata anche proprio una crescita mia personale, proprio grazie alle parole di Anna Magnani. La vita di Anna Magnani mi ha insegnato molto. Quindi è ancora qualcosa di più. Qualcosa che ora mi auguro possano soffrirne i lettori. perché sicuramente è una storia interessante, ma non perché è stata la grande attrice Anna Magnani. Per fortuna è stata un'attrice famosa, quindi la conosciamo tutti e quindi ha avuto la possibilità di approfondire la sua vita privata. Ma se non fosse stata un'attrice importante mi sarebbe comunque sia piaciuta lo stesso. Proprio per la grandezza della donna, dell'essere umano che supera il mestiere che fai. Poteva fare qualsiasi mestiere, sarebbe stata comunque sia sempre una grande donna. Senza alcun dubbio è per approfondirla e scoprirla, questa donna anche un po' rimossa dalla memoria culturale di questo paese. Ripeto, c'è questo bel libro di Matteo Persica, Anna Magnani, Biografia di una donna. L'ultima domanda che faccio a Matteo Persica riguarda proprio una sua interpretazione della Magnani, proprio pochi mesi prima, tra l'altro, della morte nel 1973. Quei pochi minuti, anzi quel minuto scarso in realtà, in Roma, all'omaggio di Federico Fellini, regista di Rimini alla capitale d'Italia, che veramente sembra quasi un tentativo di Fellini di rispingere a forza la Magnani in quel personaggio di cui abbiamo parlato, cioè della donna del popolo. Perché fa tutta fuoricampo la sua voce, fa tutta una presentazione della Magnani che viene dipinta come metafora della bellezza di Roma in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue anime. E la Magnani poi, con quel suo modo di fare, gli dice, insomma, ma che stai dicendo? Insomma, non mi fido, non rispondo alle tue domande, gli chiude il portone in faccia. È una scena che un po', insomma, racchiude lo spirito e il personaggio della donna, Anna Magnani, forse quella. Sì, poi descrive anche molto bene i vari tentativi che Fellini fece con la Magnani per farle interpretare una scena in quel film, perché lui le propose varie possibilità e la Magnani non andava mai bene niente. Alla fine riuscì a trovare questa scena che secondo me è quasi un testamento artistico che la Magnani ci lascia, purtroppo, perché è morta veramente troppo giovane, avrebbe potuto fare molto di più. E quindi ecco, lì esce fuori anche la difficoltà a rapportarsi con l'altro, ma non per colpa della Magnani, perché comunque Siale cercava sempre un confronto con l'esterno, cercava comprensione, lo diceva le stesse, insomma, l'unica cosa che cercava anche quando girava un film era proprio la comprensione, l'affetto, il calore umano. Non aveva neanche tanto accogli elogi fatti tanto per fare. Quindi lì in quella scena viene proprio ridisegnato un aspetto del carattere della Magnani, diffidente, che non si lasciava tulare appunto facilmente dalle parole, non si lasciava incantare dalle parole altrui. Quindi lì c'è Fellini che cerca in tutti i modi di farle mille complimenti, di descriverla nel modo migliore e poi lei alla fine lascia proprio basito così a bocca aperta dicendo appunto Federico, va a dormire, insomma, buonanotte. Buonanotte. E si chiude il portano alle spalle, sì. E di tirarla dentro il film non ci riesce, non c'è verso in quella scena. Io ringrazio davvero per la sua anche la sua testimonianza perché un lavoro di otto anni è veramente una dedizione importante ad una delle donne abbiamo insomma imparato a definirla anche così e non soltanto attrici più importanti della storia del nostro cinema e del nostro paese. Anna Magnani, Anna Magnani, biografia di una donna. Matteo Persi che è stato ai nostri microfoni l'autore di questo di questo sontuoso libro 400 pagine però assolutamente meritevoli di lettura. Io lo ringrazio davvero per la sua partecipazione. Io mi auguro che sia anche ecco si possa anche dare un messaggio per la mia generazione non cerchiamo troppo l'arrivare facile facilmente il lavoro alla fine paga bisogna anche essere coraggiosi nel senso che bisogna anche essere pronti appunto alla sconfitta arrivare a cascare di nuovo a cascare mille volte però la mia generazione se vi parlo da 34 anni la mia generazione secondo me ha ancora queste possibilità di ricostruire appunto anche a livello culturale il nostro paese e sta nelle nostre mani sta nelle nostre capacità nelle nostre possibilità dimostriamo di saperlo fare però sicuramente ecco non lasciamoci incantare dalle promesse dalle dalle facilonerie insomma il lavoro paga dalle adulazioni è molto coraggiosi secondo me sì è quello che ci manca che dobbiamo dimostrare secondo me rispetto alla generazione della Magnani quindi quella dopo della seconda guerra mondiale dimostriamo di avere il coraggio per fare tanto perché secondo me ci sono tanti ragazzi che si mettono anche paura un pochino perché hanno paura di non arrivare di sentirsi diciamo dentro dei verdenti il vero perdente è quello che non ci prova mai quindi provarci ci rende vincenti dimostriamo che siamo una generazione con gli attributi perché secondo me lo siamo il coltivare la memoria e la storia anche di una donna come Anna Magnani noi lo diciamo spesso qui a Buia in Sala serve anche insomma a intervenire in modo propositivo sul nostro presente e Anna Magnani Biografia di una donna come ci ha spiegato il suo autore Matteo Persica serve anche a questo e insomma un motivo in più per leggere il suo libro e per ringraziarlo di nuovo per la sua partecipazione Grazie 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 Complimenti